Benvenuti a Palermo. La storia di una grande famiglia. Signor Florio. In persona. Narrata in un'epopea. Unica. Ma avete idea di quanto può valere una tornara come questa? I soldi, Vincenzo. Sono l'unico potere che abbiamo con questa gente qua. Tu si figli Paolo Florio. Tu scordare mai. Ogni rivoluzione ha un prezzo. Ricordami. Vincenzo Florio, sono a Palermo da poche ore e non faccio altro che sentire il vostro nome. In prima visione. I Leoni di Sicilia. Da martedì 10 settembre alle 21.30. Rai 1.